I finanziari del gruppo di Salerno della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 130.000 prodotti potenzialmente pericolosi, la metà dei quali destinati a ragazzi e bambini, trattandosi di giocattoli e articoli per feste di compleanno. Le fiamme gialle che hanno condotto l'intervento hanno rinvenuto l'ingente materiale in due diversi esercizi commerciali del salernitano, uno nel capoluogo e l'altro a mercato San Severino. La merce veniva importata direttamente dall'Asia e venduta senza alcuna indicazione relativa alla denominazione merceologica, ai dati dell'importatore, alle modalità di smaltimento e soprattutto alla presenza di materiali o sostanze pericolose, con evidenti rischi per la sicurezza dei giovani consumatori. Rientrano nella categoria più nociva infatti le migliaia di prodotti cosmetici irregolari destinati ad un uso cutaneo da parte dei lineari clienti, nonché prodotti per l'igiene personale.